Nel video di oggi parleremo di una truffa ai danni di Amazon che sta facendo il giro della rete. Prima di iniziare il video vi chiedo di condividerlo, così da informare più persone possibili. Ci tengo a specificare che questa non è la classica truffa nella quale è molto difficile cascare. Torniamo a noi. Qualche giorno fa ho effettuato un ordine su Amazon, ordine che mi sarei aspettato di ricevere il giorno seguente, dato che io ho Amazon Prime. Ed effettivamente così è stato. Il problema è che tre o quattro ore prima che mi arrivasse questo pacco, mi arriva un messaggio. Questo messaggio aveva scritto Il tuo pacco è, e badate bene, è congiunzione, non è con l'accento, stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui, con poi il link che ovviamente penso rimandasse al loro sito e che io oscurerò. Già dal fatto che il messaggio fosse sgrammaticato si può intuire che il mittente non fosse Amazon. Ovviamente io ci tengo a specificare che Amazon non c'entra completamente in niente, infatti dovete sempre diffidare da questa tipologia di messaggi che vi reindirizzano a compiere un'azione al di fuori da Amazon, dato che Amazon non ve lo chiederebbe mai. Comunque io non sono sicuro al 100% che questa sia una truffa, dato che questo link non l'ho cliccato. Penso solo che già da come si presenta questo messaggio il tutto sia abbastanza sospetto. Tutto ciò mi dà molto fastidio perché alla fine, anche se Amazon non c'entra in niente, se qualcuno dovesse cliccare il link e venire truffato, Amazon, o meglio la sua reputazione, ne potrebbe risentire. L'unica cosa che mi chiedo è come sia possibile che questo messaggio mi sia arrivato proprio il giorno in cui aspettavo effettivamente un pacco di Amazon. È per questo che a inizio il video dico che non è una truffa facilmente riconoscibile, perché ok che già dal fatto che Amazon non manda questi messaggi si capisce che sicuramente è una truffa, però comunque essendo che quel giorno io stavo effettivamente aspettando un pacco, se mi mettessi nei panni di qualcun altro magari in questa truffa è facile cascarci. Io sinceramente non riesco a spiegarmi come quel messaggio mi sia arrivato proprio in quel momento. Possibile che sia un caso? Oppure erano entrati a conoscenza del fatto che quel giorno mi doveva arrivare un pacco e di conseguenza anche del mio numero di telefono? Se voi sapete darmi più informazioni a riguardo, non esitate a scrivere un commento qui sotto che sicuramente ci creiamo un dibattito. Ad onore del vero, prima di iniziare questo video ho voluto effettuare una ricerca in rete e ho visto che ci sono molti articoli che trattano questo argomento, tutti risalenti a dopo settembre di quest'anno e sempre tutti che sconsigliano di cliccare su questo link. Probabilmente si tratta di phishing, ovvero quella pratica dove qualcuno con l'inganno cerca di far inserire all'utente le proprie credenziali personali, in questo caso quelle di Amazon. Io ho esposto la mia opinione a riguardo. Voi cosa ne pensate? Lasciate like ed iscrivetevi al canale per far arrivare questo messaggio a più persone possibili. E perché no, magari attivate anche la campanellina per non perdervi i prossimi video. Se lo fate siete fantastici, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!